Io ovviamente ringrazio anch'io il collega Fassina di aver presentato questa mozione molto importante e ringrazio anche tutti i gruppi che hanno accettato le modifiche proposte dal Movimento 5 Stelle perché questa è una mozione veramente importante. Io credo che potrebbe essere sintetizzata con facciamo i conti con la nostra storia perché nel corso degli anni si sono accumulati dei debiti così come sono stati chiamati all'interno della mozione i debiti ingiusti e odiosi con i quali bisogna fare dei conti e bisogna far sì che si diano delle risposte adeguate, risposte che peraltro stanno anche arrivando. Io vorrei ricordare, l'ha detto il collega Fassina, la mozione è stata presentata a metà maggio e di recente a giugno è arrivata una sentenza a sezioni riunite della Corte di Cassazione, la numero 8770, che tratta proprio questo. Un comune che ha eccepito su un debito o contratto con dei derivati e la sentenza ha dato ragione, ha dato ragione al comune. Per cui questa mozione sostanzialmente va nella stessa direzione, è una cosa molto importante, è una cosa che riguarda anche Roma Capitale, perché ante 2008 ci sono diversi miliardi di derivati che stanno all'interno della gestione commissariale. Bisogna dire che qui forse con un pizzico di orgoglio una volta Roma Capitale ha fatto il suo dovere, perché già nel primo governo del Movimento 5 Stelle, quello con la Lega, Roma Capitale si è attivata con il governo e ha fatto un lavoro enorme, enorme, che ha puntato a rivedere il debito contratto con i derivati, la gestione commissariale dal 2021 dovrà chiudere e una parte di questo debito verrà accollato allo Stato, ma è un'operazione, così come ha detto il Vice Ministro Castelli, win-win, dove vincono tutti, perché benché se lo accogli una parte dello Stato non spenderà un euro in più, anzi i calcoli che si fanno e che si andranno a risparmiare 2,5 miliardi di euro fino al 2048, perché purtroppo lo dobbiamo ricordare, con i debiti ante 2008 tutti gli italiani stanno pagando 500 milioni all'anno per pagare questo debito e dentro questo debito ci sono anche tantissimi derivati. Roma Capitale si è già attivata, ha fatto una parte di questo percorso, ebbene lo chiediamo che venga fatto per tutti i comuni e che si rafforzi questo concetto, perché è fondamentale andare a ragionare su questo. Considerate che in Italia sono stati ben 797 comuni coinvolti nell'acquisto di derivati, io non vorrei dire una sciocchezza, ma credo che nessun comune in Italia che ha sottoscritto dei derivati abbia trovato un vantaggio per la propria cittadinanza. Sono stati delle vere e proprie, lo dico in maniera anche forse un po' forte per un consiglio comunale, ma sono delle fregature, non mi viene un altro termine più ideale e idoneo rispetto a quello che è accaduto. È un fatto molto grave perché ci sono dei debiti enormi, contratti da parte in tutti i comuni, senza avere un euro di servizi alle città, agli enti per i quali hanno sottoscritto questi contratti, per cui io ritengo che sia una cosa molto importante ed è importantissimo che tutti i gruppi insieme stiano votando questo atto, perché è bene che il Governo ponga attenzione a questo tema e dia seguito alle richieste che vengono poste da questa mozione. Pertanto consegno il voto favorevole del Movimento 5 Stelle alla mozione 230. Grazie.